Preferiamo la sicurezza a 15 giorni di luminaria e la pensa così il sindaco di San Nicolarcella Barbara Mele che ha deciso di destinare 10.000 euro circa per il piano di emergenza, soldi che sarebbero potuti servire per gli addobbi e gli eventi natalizi. Ma i fondi, soprattutto per un piccolo comune, sono quelli che sono e allora bisogna fare delle scelte. Ciò non vuol dire che a San Nicolarcella non si respirerà l'aria natalizia, al contrario l'amministrazione sta pensando a una serie di iniziative che allieteranno le festività, ma tutto si farà in economia. Una volta concluso, il piano di emergenza verrà presentato alla cittadinanza. Già a novembre il primo cittadino aveva comunicato, attraverso una nota stampa, le peculiarità del documento. Infatti è stato già affidato a un tecnico lo studio di microzonazione sismica di livello 1 e l'analisi della condizione limite per l'emergenza. Insomma, si andranno a inserire nel piano tutte quelle aree che potranno essere utilizzate come rifugio per i cittadini in caso di sisma o di altra calamità naturale, senza dimenticare l'apporto della protezione civile nelle operazioni. Prevenire è meglio che curare. L'amministrazione punta proprio a questo. I recenti terremoti che hanno colpito il centro Italia, di cui ormai non si parla più, devono far riflettere e devono far prendere coscienza della potenza di certi eventi naturali. Sottovalutarli, abbandonandosi al fatalismo nel momento in cui avvengono, non giova a nessuno. Quindi a San Nicolarcella sarà un Natale con qualche luce in meno, in favore di un piano di emergenza. Logicamente, ha spiegato la mele, metteremo in campo anche delle simulazioni e garantiremo alla popolazione la massima trasparenza. Al nostro fianco ci sarà la protezione civile, che già da moltissimo tempo è impegnata in campagne di sensibilizzazione in merito alla prevenzione e al soccorso, in caso di eventi calamitosi.